Ma non te lo posso dimostrare, cioè penso che ora che apro Dream Team esploderà tutto Insomma, stiamo sui 70 di temperatura, stiamo per esplodere signori Se sentite un crack all'improvviso, ho sentito una botta, questa volta non è una gag Ma in realtà sto cercando di mantenere una felicità apparente, però io giuro che è difficile Ok, tutto a posto, bellissimo, bell'arturco, frate, qua stai tutto a gas, stai sparato Tu invece sei reciclato dall'anno scorso, shabu a me, shabu a te, Alberto, quadrupla posizione Bello, mi piacciono, li voglio tutti Intanto partiamo con la prima, vi ricordo che vi ho buttato il pronostico prima Mort, vuota, com'è? Oh, oh, oh Oh Eh no, eh no Signori, siamo pronti? Sì, signor capitano Ma un attaccante giapponese C'è giapponese, voglio vedere? No Cd? No E difensore? Eh no Portiere giapponese, un maronna mi? No T'Europa, passiamo ad Europa Attaccante? No E C'è? Non è C'è Non è difensore, non è manco difensore E portiere? Non è manco portiere Chi sta è latino? Signori, è il momento della verità Che sudamericano sei? Non si salina a scaccia E già questo è qualcosa C'è? Non c'è nessuno di loro C'è? Ok, C'è? Non ne è un C'è? Tu di chi è? Sant'Ana? Vai 3, 2, 1 Non è Sant'Ana Mi è venuto un infarto Ed è Alberto, signori Non ho mai avuto un Alberto in vita mia Quindi mi sento un po' emozionato Ad avere Alberto Signori, ok Primo, primo step andato Andiamo al secondo step La te ha bendata No, vado La te ha bendata Io d'affanculo la te ha bendata La te ha bendata me la fa Uè, Carmelito E come sei friscoccio? Ok, non è un attaccante giapponese È un C.A.? Non è un C.A., signori È un C.D.? Non è un C.D., signori È un D.I.F.? È un D.I.F.? Che il lupo a stard Da da muri a famiglia Piezzi e merda Sarà? Quello che sarà o non sarà? Le fiamme erano nuove Domani, tutto il fine settimana Cioè, tutto il fine settimana Che lo volete fare? Senza Maia Ma che Dio buchino Ma che cazzo Avevamo iniziato bene Huawei ti offre in maniera gratuita Tutto Signori È il momento della verità Avrò shaftato? Sarà andata bene? 3 2 1 Wow, tutto il fine settimana �? Ciao! Ho scontato! E' un uomo Ciao! Non è il fine settimana La verità E' un uomo È un uomo Maia Il fine settimana Il fine settimana Il fine settimana Il fine settimana Buon appetito!